ciao e ben ritrovato o ben ritrovata in questo episodio del podcast di italiano bello io sono Irene e anche oggi parliamo di qualcosa non so ancora di cosa ma parliamo di qualcosa legato all'italiano in realtà so di cosa voglio parlare oggi voglio parlare dell'aggettivo bello o bella in uno degli episodi passati abbiamo parlato dell'aggettivo carino o carina che significa bello ma non bellissimo oggi invece voglio parlare di bello infatti vi racconto una storia di quando ero piccola quando ero una bambina piccola avevo forse 7 8 anni andavo alle scuole elementari infatti in Italia i bambini che hanno 5 o 6 anni iniziano ad andare alle scuole elementari che durano 5 anni quindi fino a quando il bambino ha 10 o 11 anni alle scuole elementari si impara a leggere a scrivere si imparano le basi della matematica della storia della geografia insomma si imparano tutte le cose di base le cose elementari appunto per questo si chiamano scuole elementari ecco e alle scuole elementari la mia maestra la mia insegnante ci diceva sempre quando scrivete in italiano o quando parlate non dovete sempre dire bello è un bel bambino oggi è una bella giornata il libro è stato bello è bello guardare i film cambiate un po quindi la nostra maestra ci diceva di cambiare di variare di non usare sempre la parola bello e allora oggi voglio dire anche a voi di non usare sempre bello ma di cambiare un po e quindi oggi voglio darvi alcune parole italiane che potete usare al posto di bello invece di bello allora sono sicura che tutti sapete che cosa vuol dire bello possiamo dire appunto un bell'uomo una bella donna una bella giornata un bel libro è bello cucinare è bello mangiare è bello guardare i film ma come possiamo dire bello in altri modi vi do un po di idee sicuramente ce ne sono anche tante altre se una cosa è bella ma non bellissima come abbiamo già detto puoi dire carino com'è questo libro ma carino cioè non è proprio bello è bellino diciamo invece ci sono dei modi per dire che qualcosa è molto bello è bellissima possiamo dire magnifico è stata una serata magnifica cioè molto molto bella possiamo dire stupendo sono salita su una montagna e sulla cima della montagna si vedeva un panorama stupendo cioè molto bello e possiamo anche dire meraviglioso anche meraviglioso vuol dire molto bello per esempio è stata una serata meravigliosa oppure questo libro è meraviglioso lo voglio leggere ancora dieci volte quindi bello magnifico stupendo meraviglioso c'è anche la parola splendido che vuol dire anche questa molto bello per esempio oggi il mio umore è splendido sento che posso posso fare tutto posso avere una giornata splendida quindi splendido magnifico meraviglioso stupendo questi sono alcuni modi per dire che qualcosa è bellissima una cosa bellissima è meravigliosa stupenda splendida splendida magnifica poi ci sono anche altre parole che definiscono meglio una cosa infatti bello è un aggettivo molto generico è un aggettivo che si può usare certo ma è generico non definisce bene non spiega bene che cosa vogliamo dire quindi quando vogliamo dire che qualcosa è bella possiamo chiederci ma che cosa voglio dire esattamente forse voglio dire che questo libro è interessante cioè che mi interessa che dice tante cose che ho voglia di sapere di conoscere di imparare quindi interessante un libro interessante per esempio possiamo dire piacevole questa serata è stata piacevole cioè mi è piaciuta sono stata bene piacevole una serata piacevole un una gita in montagna piacevole e un sinonimo di piacevole è anche gradevole vuol dire bella che mi è piaciuta oggi non fa troppo caldo non fa troppo freddo c'è una temperatura gradevole o piacevole cioè una temperatura che è che è bello sentire sulla pelle un altro aggettivo che possiamo usare è divertente per esempio un libro bello può essere bello ma non divertente ma un altro libro può essere bello e divertente cioè che fa sorridere o fa ridere quindi abbiamo già imparato tanti altri modi per dire bello per dire bellino possiamo dire carino per dire bellissimo possiamo dire magnifico meraviglioso stupendo splendido o per definire meglio per specificare possiamo dire interessante piacevole gradevole divertente o anche appassionante anche entusiasmante mi sono dimenticata di dire entusiasmante e appassionante ecco quindi dopo questo episodio puoi scrivermi una email o puoi commentare sotto il video di youtube usando una di queste parole io ti aspetto nel corso pronti partenza via che inizia molto presto puoi trovare tutte le informazioni nel link www.italianobello.it e ti auguro una giornata magnifica